Si rinnova un appuntamento molto importante nella parrocchia Sant'Antonio di Gela con l'ottobre missionario. Tanti sono gli obiettivi che sono stati raggiunti, quali invece quelli che si devono raggiungere quest'anno, nel 2016? L'ottobre missionario che si celebra nella parrocchia è la celebrazione che si unisce alla celebrazione di tutta la Chiesa Universale, che oggi ricorda il nostro spirito missionario, ricorda che siamo chiese, quindi siamo chiesa missionaria. Come ci ricorda il Papa siamo chiesa in uscita, quindi il primo grosso obiettivo di tutti i gruppi missionari è quello di ricordare questo, ricordare che siamo una chiesa missionaria che ha bisogno di guardare fuori alle tante povertà e quindi sia quelle vicine, non solo perché adesso abbiamo povertà che sono più visibili vicine, ma anche alle tante altre povertà che ci sono e poi anche quelle lontane. Il gruppo missionario di Gela in modo particolare è legato negli ultimi anni a un gelese, che è il padre Giovanni Salerno, fondatore del nostro istituto missionario, che io per grazia di Dio ho avuto il dono di incontrare e che mi ha fatto innamorare della Chiesa, della missione e quindi il gruppo è da sempre legato a questa figura e gli obiettivi, più che obiettivi, io direi che sono miracoli perché è partito lui da Gela, è partito solo, è iniziato un'opera grande che attualmente accoglie circa 1200 bambini, però proprio in questi giorni stavamo facendo con gli altri padri missionari un piccolo calcolo. Quest'anno è la ventesima generazione di bambini che escono dalle nostre scuole, quindi in questi vent'anni ci sono stati venti generazioni che hanno attraversato tutta la formazione, hanno ricevuto formazione intellettuale, tutta la formazione dell'obbligo, formazione professionale e questo ha voluto dire anche seguire le loro famiglie. E questo ha voluto dire un'impronta forte sulla Cordilliera delle Ande, quindi tra gli indios della Cordilliera. Gli obiettivi futuri sono, da un paio d'anni a questa parte sono state aperte le porte del Perù e si sono aperte nuove realtà a Cuba, dove adesso tra l'altro si trova il padre Giovanni Salerno e il prossimo mese, proprio il mese di novembre, apriremo una casa, le nostre suori apriranno una casa in Messico in un bario periferico di Guadalajara e quindi sono obiettivi non piccoli, però come sempre quando si è in mano una missione con 1200 bambini e circa 800 famiglie, l'obiettivo è già di mantenere quello che c'è, che non è poca cosa.